... e la proposta del Consiglio della Cegnaviana, aveva un paio elettrico e un paio del rosato. Troppo è l'utilizzo nel 12.5.30, che è un accordo vicino a noi. Alla luce delle condizioni tecniche di sviluppate, un po' escluso che si tratta di un anno di diritto e che scopre la mano. Ebbene, gli enti di accumulazione con un'unica finanziaria che, subi la parte coniore delle elezioni, stiamo tutti d'accordo con il diritto alla casa, stiamo tutti d'accordo con il potere fare tutto il possibile, anche se ci sono altri punti della vita, non dei dati. Nel momento in cui noi andiamo ad approvare di Dio, cosa che noi ci ammettiamo a fare, riusciamo pochi ad andare incontro alle esigenze di quelli che sono i cattivi, di quelli che sono i cattivi. Se tu hai attenzione, se tu hai attenzione, di troppo dalle, in precedenza, di una parte che tu hai detto, studiate, ancora studiate, però la vostra, si dice, mentre la mente è che io giudiate la valutazione, non starete nel senso di un'unica, ci guardiamoci la mente in un'unica. Quindi sappiamo che, andando a procedere di Dio, quando noi ci siamo recepiti, per esempio, sottoponiamo lezze volte ad una grado, ecolo, e ad un trattamento di due stessori, i cittadini comunali. E' una cosa, quindi, diciamo, le lezze, ci portavamoci, penso che, la risposta a noi, anche se i cattivi vanno. Non, diciamo, finta, perché non cattivano lezze, ma non cattivano lezze, la chiamiamo così. Ora, chiedo, a qualcuno di Dio Dio Dio, di chiedere a me, a cosa ci porterà, a questo individuo. Cioè, di soli anni, da questi giorni, abbiamo, una, la potenza, di poter dare una cosa più completa, e riusciamo, sempre da piccolare, perché, diciamo, non si è in cura del Dio 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 Dio, ma c'è, semplicemente tanto, di vero, a valore del Dio 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 Dio. Ma, andiamo a metterci, diciamo, che, iniziamo, che, iniziamo, 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 che, iniziamo, 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 Grazie.